Un ambiente piacevole, un po' di musica, la cordialità di un amico, l'importanza di una scelta sicura, Aniello De Santis, per la tua pelliccia d'autore, Aniello De Santis, pellicce esclusive, nate da un disegno originale, Aniello De Santis, in Ponte Cagnano, Salerno. Una scelta di successo? Partenauto. Questa è la nuova sede commerciale e assistenziale della concessionaria Fiat Partenauto, via nazionale Torrette. Qui, in 5500 metri quadrati, di costruzione e su una superficie di 11.000 si estende una delle più funzionali e moderne concessionali Fiat d'Italia. Alla Partenauto, dove puoi trovare le grandi novità Fiat dell'anno, abbiamo fatto nostro lo slogan della Fiat, la volontà di continuare. E questo un chiaro segno della nostra fiducia nella qualità e nella competitività dei veicoli Fiat e nel futuro dell'automobile. Concessionaria Fiat Partenauto, per una scelta di successo, perché il tuo successo è anche il nostro successo. nuove Opel Ascona. Ascona tre volumi, innovazione della linea classica. Abitacolo a tutto spazio, informazioni complete, da 0 a 100 in 14 secondi. Ascona due volumi, fascino dell'aggressività, frazione anteriore 1.300, 1.600. Nuove Opel Ascona, alle spalle l'esperienza, di fronte, l'oggi. Per informazioni e prove, rivolgetevi alla concessionaria Arcar, in via Bellabona 107, telefono 0825 225 52 Avellino. Presso la concessionaria Arcar potrete provare e visionare tutta la vasta gamma Opel, costituita da 40 versioni, nei modelli benzina e diesel. Eccoli, ecco i tuoi nuovi amici Ignis, per conservare in freschezza, per lavare in bellezza, per cucinare in bontà. Ignis, destinazione donna. I tuoi nuovi amici Ignis li troverai presso Irpini Elettrodomestici, in via Scandone 89 97, telefono 307 98 Avellino. La mia Renault 5 è una strega. Franz Motor, concessionaria Renault, esposizione e vendita, via Piave 40, telefono 360 92 220 61, e via Nazionale, telefono 241 35 Avellino. Buonasera, per la rubrica incontri Felice Severino intervisterà il consigliere comunale Antonio Bellizzi.